Sei nel Sahara. Vedi un'enorme tenda da sole con un bersaglio rosso. La sua superficie è così calda che potresti cuocerci del cibo sopra. Una goccia d'acqua deve colpire il centro di questo bersaglio alla velocità della luce. Teoricamente e tecnicamente questo esperimento è impossibile, ma se si realizzasse ci aspetterebbe un misterioso nulla. Ogni versione di questo nulla sarà diversa. Lasceremo cadere tre gocce. Tentativo numero uno. È meglio condurre questo esperimento da un'altezza elevata o dallo spazio. Decolli con un jetpack in direzione stratosfera. Hai una bottiglia d'acqua in mano. Versi una goccia che inizia ad accelerare da sola. In questo caso, anche a bassa velocità, la goccia d'acqua brucerà negli strati inferiori dell'atmosfera. In meno di un secondo sarà vapore. Supponiamo che il nostro pianeta non abbia l'atmosfera a proteggerlo. La resistenza dell'aria influenzerebbe comunque la discesa della goccia. Cadendo ad altissima velocità, il vento freddo la trasformerebbe in un ghiacciolo. Maggiore la velocità della goccia, più forte è la resistenza dell'aria. La goccia si muoverebbe sempre più velocemente, raggiungendo presto la velocità del suono. A quel punto si frantumerebbe in migliaia di piccole parti. Ma, alla luce di queste condizioni, la goccia non riuscirebbe a toccare terra. Il tentativo numero due consiste nel cambiare la struttura della goccia. L'ossigeno, la nitride carbonica, l'ozono e gli altri gas dell'atmosfera distruggono qualsiasi oggetto in caduta libera. Ma cosa succederebbe se la goccia non incontrasse questi ostacoli? Decidi quindi di cambiare chimicamente la struttura dell'acqua. Indossi di nuovo il tuo jetpack e prendi una bottiglia d'acqua. All'altezza dell'orbita terrestre la apri e ne versi una goccia. Accelera e non c'è resistenza. Passa attraverso gli strati più caldi dell'atmosfera. Non brucia. Supera anche la temperatura di congelamento senza cambiare stato. Vola verso terra, toccando la velocità della luce, schiantandosi al suolo. Ma non succede niente. La goccia ha assunto le stesse proprietà di una particella di luce, un fotone. Solo così può arrivare alla velocità della luce. Infatti, nessun oggetto dotato di massa, un'automobile, una casa, una foglia, una formica, un capello, un granello di sabbia o una molecola, può raggiungere la velocità della luce. Solo le particelle di luce ne sono capaci, poiché non hanno massa. Una goccia intangibile cade nel centro del bersaglio e, di nuovo, non succede niente. Passiamo alla terza opzione. Gli scienziati hanno trovato un modo per accelerare una goccia alla velocità richiesta. Devono cambiare la composizione molecolare per renderla più resistente alle temperature estreme. Per far sì che la goccia raggiunga la velocità della luce senza danni, è necessario inserirla in un ambiente vuoto. Nessuna resistenza dell'aria, nessuno strato protettivo dell'atmosfera, solo lo spazio e l'acqua. A questo scopo, gli scienziati devono costruire un tubo lunghissimo. Proprio in mezzo al Sahara viene realizzato un centro scientifico per portare avanti questo esperimento. Il tubo dovrebbe innalzarsi da questo punto fino a raggiungere la quota dell'orbita della Stazione Spaziale Internazionale, ovvero 408 chilometri, circa 50 volte l'Everest. Non è possibile coinvolgere la ISS perché è in continuo movimento intorno alla Terra. Completa una rivoluzione in 90 minuti. Per questo motivo, gli astrofisici e gli ingegneri dovrebbero costruire una piccola stazione per una persona. La mini stazione dovrebbe muoversi con un'orbita geostazionaria. I materiali utilizzati per creare questo tubo sono resistenti ai vari agenti atmosferici. All'interno troviamo una lega di titanio e grafene, il metallo più resistente sulla Terra. Il tubo è costruito orizzontalmente. Poi, con l'aiuto di diversi elicotteri e cavi, viene messo in posizione verticale e attaccato a una piccola stazione spaziale. Alcune speciali pompe consentono all'aria di uscire e ne bloccano il flusso all'interno. La goccia d'acqua non deve toccare le pareti. Un sistema di piastre magnetiche la terranno lontana dalla superficie del tubo. Indossi un jetpack e voli verso la stazione con una bottiglia di acqua modificata. Le tue mani tremano per l'emozione. Il tuo respiro risuona forte nella tuta spaziale. Apri la bottiglia, la inclini leggermente e versi una sola goccia d'acqua in una scatola speciale. All'interno di questo contenitore, la goccia si carica dell'energia necessaria per arrivare alla velocità della luce. Ora è pronta per il viaggio. Guardi la scatola, chiudi gli occhi e premi il pulsante di avvio. La goccia scivola nel tubo a grande velocità. A causa della potente onda d'urto, l'intera stazione viene scagliata di lato. La goccia accelera e, a questo punto, il tubo, composto dalla lega di metalli più resistenti al mondo, comincia a sciogliersi. La goccia sprigiona così tanta energia che sarebbe in grado di fornire elettricità a una piccola città. Finalmente viene raggiunta la velocità della luce, 300.000 km al secondo. Il tubo si trasforma in polvere. Non importa se la goccia colpirà il terreno o meno, perché non rimarrà nulla. Proprio così, tutti gli oggetti materiali, auto, case, campi, oceani, computer, aerei, navi, fiori, alberi, devo continuare? Scompariranno. Le cose immateriali come il gas, l'aria, le onde radio, le radiazioni elettromagnetiche, miliardi di terabyte di informazioni digitali, beh, anche queste scompariranno. Sei proprio nei guai. Qualsiasi suono, le grida, la musica, il telefono che suona, sarà impossibile da riprodurre o sentire. La luce scomparirà, l'oscurità sarà totale. Ma riavvolgiamo il tempo e vediamo cosa è successo esattamente. No, non possiamo farlo, perché nemmeno il tempo esiste più. Immagina il tempo come un fiume che scorre rapido in una direzione. A un certo punto finisce in un pozzo senza fine e scompare. Tutto questo è successo perché una goccia d'acqua si è schiantata sul nostro pianeta alla velocità della luce. Non appena la goccia comincia ad avvicinarsi alla velocità stabilita, perde le sue proprietà naturali, diventando l'oggetto più potente e più pesante dell'universo. L'energia che ne deriva distrugge qualsiasi cosa nel raggio di centinaia di migliaia di chilometri. Cemento, terra, rocce, eccetera, tutto sparisce. Nel primo secondo, tutto viene frantumato in milioni di piccoli pezzi. Successivamente, queste macerie vengono sminuzzate in particelle ancora più piccole. Le molecole bruciano. Immagina una mappa cartacea del mondo. Se la bagni e la strappi, si trasformerà in frammenti di carta bagnata. Se la bruci, una parte della mappa diventerà cenere e l'altra parte si disperderà nell'aria sotto forma di fumo. La mappa rimarrà, ma non sarà mai più la stessa. Se invece si distruggono le molecole della mappa, si può affermare che la mappa non sia mai esistita perché non esistono tracce della sua esistenza. La stessa cosa succede al nostro pianeta. L'energia di una goccia d'acqua fa sì che la Terra non sia mai esistita. Nel momento in cui la goccia supera la velocità della luce, compare un buco nero. Espandendosi, assorbe tutti i detriti spaziali. Poi è il turno della Luna. Successivamente, di Marte e di tutti gli altri pianeti del nostro sistema solare. Il buco nero si espande e aumenta la forza di gravità al suo interno. Insieme ai pianeti, assorbe la luce. Si avvicina al Sole. La nostra stella si divide in strisce di luce come se avesse attraversato un enorme trituratore cosmico. Il Sole esplode e rilascia una quantità incredibile di energia. Normalmente immaginiamo che i buchi neri compaiano dopo l'esplosione delle stelle. Non è sempre così. In questo momento, il buco nero sta assorbendo tutta l'energia solare. Si fa sempre più buio. La luce delle stelle lontane si riversa direttamente nell'enorme supermassiccio. Anche i meteoriti che orbitano a centinaia di migliaia di chilometri vengono divorati. Nello spazio è possibile trovare moltissimi buchi neri, ma solo uno è stato creato da una piccola goccia d'acqua. Più alta è la velocità di qualsiasi oggetto, più pesante diventa. La massa diventa la quantità di energia che un oggetto possiede. Quando le molecole d'acqua raggiungono la velocità della luce, la loro massa cresce senza limiti, verso l'infinito. Una massa infinita forma un buco nero, un corpo in grado di assorbire tutte le radiazioni luminose. Nessuno sa esattamente cosa ci sia all'interno dei buchi neri. All'esterno rimangono solo oscurità e un'incredibile forza di gravità. Non dovremmo fare questo esperimento, vero? E se invece facessimo un vulcano col bicarbonato? Nulla nell'universo può viaggiare più veloce della luce. Attraversa lo spazio, sorpassa Mercurio e Venere e raggiunge noi qui sulla Terra e rallenta. Ma niente panico. Il Sole si sta sì indebolendo, ma i primi effetti concreti si noteranno solo tra un miliardo di anni. Nel vuoto del cosmo, la luce viaggia alla velocità di quasi 300.000 km al secondo. Se la velocità fosse più bassa di così, tutti noi ce ne accorgeremmo subito. Osserveremmo incredibili effetti di colore e tutti gli oggetti sarebbero meno brillanti. Ma non solo. Di ogni oggetto noteremmo anche differenze nella lunghezza e nella forma. Gli scienziati hanno simulato gli effetti di ciò che accadrebbe se la luce viaggiasse più lentamente. Nel vuoto, la velocità della luce è costante. Quando la luce attraversa diversi materiali e diversi oggetti, altera la nostra percezione delle cose. La luce è composta da particelle e viaggia come un'onda. Il colore e la frequenza sono quindi determinati dalla lunghezza d'onda, un po' come si comporta il suono con l'effetto Doppler. Immagina di trovarti su un'autostrada trafficata e accanto a te sfreccia all'improvviso un'auto che sta suonando il clacson. Che chiasso! Il suono del clacson lo sentirai svanire pian piano, perché la sua fonte è in movimento, mentre tu resti fermo nella tua auto. La frequenza non è cambiata, è solo che un suono raggiunge il tuo orecchio più velocemente quando la sua origine è in movimento. La luce si comporta in modo simile. La lunghezza d'onda varia con la velocità. Se ci avvicinassimo ad una fonte di luce, accorceremmo la lunghezza d'onda e il colore varierebbe dal blu al violetto. Allontanandoci invece, vedremmo una tonalità rossastra. Perciò, se la velocità della luce fosse più bassa, muovendoci verso un oggetto illuminato, noteremmo cambiamenti nei colori. Allo stesso tempo, i colori cambierebbero anche tutto intorno a noi. Camminando, vedreste i colori degli oggetti verso cui ti muovi più blu, mentre tutto il resto avrebbe tonalità rosse. Questo effetto è molto utile agli astronomi che studiano corpi celesti lontanissimi. Se variano verso il blu, significa che si stanno avvicinando a noi. Una variazione in rosso indica invece che si stanno allontanando. Tra l'altro, quasi tutto nell'universo varia verso il rosso, perché l'universo stesso è in espansione. Più la luce rallenta, più diventa luminosa. Questo perché i fotoni diventano appunto più visibili. Se la luce rallentasse, vedremmo cose finora a noi invisibili e a maggiore intensità. Ma non ce ne accorgeremmo stando fermi, perché a causa dell'effetto Doppler c'è bisogno di movimento per notare la differenza nelle tonalità di colore e nell'intensità luminosa. Un altro effetto del rallentamento sarebbe la percezione del tempo. Secondo la relatività, se ci muovessimo a velocità luce, il tempo per noi rallenterebbe. Lo spazio e il tempo sono relativi, quindi quando siamo seduti alla scrivania a far niente, suona mica familiare. Ogni tuo movimento attraversa il tempo, ma non lo spazio. Stando fermi, si è tecnicamente in movimento lungo il tempo, che passa molto lentamente. Viceversa, più velocemente ci si muove nello spazio, più lento sarà il movimento attraverso il tempo. Viaggiare a velocità della luce significa che l'intero movimento si compie attraverso lo spazio e non nel tempo. Per notare l'effetto, serve un'altra persona che faccia da osservatore. All'inizio, stando fermi, per entrambi il tempo scorre allo stesso modo. Poi tu cominci a muoverti e piano piano ti accorgeresti che il tempo passa più velocemente, perché il tuo movimento, accelerando, si compie sempre più attraverso lo spazio. Muovendoti a velocità luce, il tempo scomparirebbe e per l'osservatore diventeresti anche più piccolo. Anche a te in movimento a velocità luce ogni oggetto apparirà piccolo. Allo stesso modo, chiunque ti osservasse viaggiare a velocità luce, ti vedrebbe molto più piccolo di come sei davvero. Le simulazioni condotte dagli scienziati hanno mostrato anche che se la luce rallentasse, tutto quanto diventerebbe più allungato e appiattito. Se vedessi montagne in lontananza, correndo a velocità luce, ti apparirebbero ancora più distanti. La forma degli oggetti apparirebbe distorta, ma a te sembrerebbe di arrivare in qualsiasi luogo più velocemente, perché il tempo per te è più letto. Nella nostra realtà, se tu stessi immobile e qualcuno alla tua sinistra tirasse un oggetto a forma di cubo alla tua destra, ovviamente dell'oggetto vedresti soltanto un lato, a meno che stia rotolando. Nella realtà simulata dagli scienziati invece, vedresti allo stesso momento sia il lato a te visibile che quello opposto. Muovendoti a velocità luce in uno spazio infinito, tutto quanto ti apparirebbe allungato, per la combinazione tra velocità e spazio senza limiti. In un mondo in cui tutti potessimo muoverci a velocità luce, niente ci apparirebbe normale. Dovremmo abituarci a nuove percezioni delle cose e ogni movimento andrebbe a creare drastici cambiamenti nei colori. Anche piccoli movimenti come girare di lato la testa, per esempio al supermercato mentre fai la spesa e ti aggiri tra gli scaffali. Il latte alla fine del corridoio ti apparirà estremamente vicino, ma mentre ti muovi per raggiungerlo lo vedrai allontanarsi da te sempre di più e la bottiglia di latte assumerà anche tonalità rosse. Più ti avvicinerai, più il colore varierà verso il blu. Se qualcuno ti passa vicino con il carrello della spesa, quest'ultimo ti apparirà come in una proiezione in 3D. Il colore varierà col movimento e a te sembrerà lontanissimo anche se si trova proprio accanto a te. La velocità della luce non è nota con precisione. L'approssimazione dei quasi 300.000 km al secondo è una costante a cui gli astrofisici sono arrivati dopo molti calcoli ed è utile per tutte le equazioni fondamentali. Il fatto è che l'unico modo per studiare la luce è attraverso un fascio luminoso e uno specchio. Ma non basta puntare il fascio di luce verso uno specchio e compiere misurazioni del suo percorso e del riflesso. La teoria della relatività generale di Einstein ci dice che lungo il percorso tra la sorgente e lo specchio la velocità può variare e lo stesso per la luce riflessa dallo specchio. Se per esempio la luce impiega 10 secondi per arrivare dalla sorgente allo specchio e tornare indietro possiamo concludere che abbia raggiunto lo specchio in 5 secondi. Ma la teoria di Einstein ci dice che potrebbero esserci voluti 9 secondi per il viaggio di andata e solo uno per il ritorno o viceversa. Oppure chissà quante altre combinazioni tutte diverse tra loro. Ecco perché è davvero molto difficile misurare la luce. Un momento rivoluzionario nella scienza fu quando i ricercatori riuscirono a rallentare la velocità della luce fino a zero senza perdere luminosità. Ci riuscirono grazie all'uso di sciami di atomi ultra freddi fatti di cristalli fotonici. Sono cristalli che contengono miliardi di minuscoli forellini che la luce può attraversare. Ma se invece vivessimo in un mondo in cui la luce si è fermata a metà strada ti sveglia al mattino e sembra il crepuscolo. Apri le finestre e le luci delle auto ti sembrano sbiadire. Accendi la luce nella tua camera ma ti sembra che la lampadina stia per fulminarsi. Nemmeno sostituendola con una nuova cambia qualcosa. Anzi accendi le luci in tutta la casa e tutte quante sono debolissime. Non sai che pensare? Sarà mica che c'è un problema con la corrente in casa tua? Eppure tutto funziona normalmente. Chiedi anche ai vicini e hanno tutti il tuo stesso problema. Nemmeno gli scienziati sanno spiegare cosa stia succedendo. Passano le ore e in tutto il mondo la luce sembra si sia fermata a metà strada. Lo schermo del tuo cellulare è quasi buio eppure hai settato la luminosità al massimo. Tutto sembra farsi buio. Senti in televisione che il fenomeno è riportato in tutto il mondo. La luce sta diminuendo e presto non ce ne sarà più da nessuna parte. Non puoi far altro che aspettare mentre tutti quanti vanno in panico. Attenzione! Attenzione! Popoli di tutti i paesi e città del mondo, un enorme asteroide si sta avvicinando alla Terra. La sua velocità è diverse volte superiore a quella del suono e ogni giorno accelera ancora di più. Una volta entrato nel nostro sistema solare passerà attraverso i campi gravitazionali di Urano, Saturno, Giove e Marte che aumenteranno a disvisura la sua velocità. Il nostro pianeta è la sua destinazione finale. La collisione è inevitabile. Secondo gli scienziati, un meteorite delle dimensioni del monte Everest può distruggere l'intero pianeta. Il disastro avverrà tra 350 giorni. Nelle strade si scatena il panico. La gente compra il materiale necessario per costruirsi dei bunker. Scienziati e astronomi di tutto il mondo si riuniscono per trovare una soluzione. L'unico modo per evitare la collisione è distruggere l'oggetto spaziale. Un potente razzo può dividere un asteroide in centinaia di migliaia di pezzi. In questo caso, la pioggia di meteoriti che colpirà la Terra non sarà distruttiva come H3 con il meteorite. In meno di un anno vengono progettati e realizzati diversi razzi. Poi, utilizzando i migliori telescopi del mondo, gli astronomi creano un sistema di guida unico. Tutti aspettano il momento in cui l'asteroide entrerà nel nostro sistema solare. Le persone iniziano a trasferirsi in un continente dotato di bunker di primo ordine per tutti. I danni dell'asteroide sono impossibili da prevedere. Quindi è meglio nascondere le persone in un unico luogo, sicuro e grande abbastanza per tutti, in attesa della collisione. Il momento è arrivato. L'asteroide passa vicino a Urano. La velocità aumenta. Ora, il colossale oggetto spaziale si muove solo 10 volte più lentamente della velocità della luce. Gli scienziati lanciano i razzi in aria. L'asteroide vola oltre Saturno e distrugge una parte del suo anello. La traiettoria dell'asteroide cambia. Supera altri pianeti attraverso un percorso tortuoso, prende velocità e si dirige verso la Terra. I razzi si lasciano dietro una lunga scia di fuoco e raggiungono la velocità del suono. Si stanno avvicinando all'asteroide. Vicino a Marte avviene una collisione. I razzi colpiscono il bersaglio. L'asteroide esplode e si divide in milioni di particelle. Tutti i pezzi volano in direzioni diverse. La Terra è salva. In questo momento i satelliti della Terra registrano un'enorme esplosione di energia. Una piccola parte dell'asteroide si sta dirigendo verso la Terra. È minuscola, quanto un granello di sabbia. L'esplosione ha aumentato la sua velocità e questo granello sta volando verso la Terra a una velocità di 297.000 km al secondo, che è il 99% della velocità della luce. A questa velocità il granello ha quasi lo stesso potere distruttivo dell'intero asteroide. Si sta avvicinando alla Luna ancora qualche secondo e il frammento colpirà il nostro pianeta. Tutte le persone rimangono con il fiato sospeso. Il perché questo granello sia diventato così distruttivo viene spiegato da alcune leggi della fisica. Maggiore è la velocità di qualsiasi oggetto, più aumentano la sua massa ed energia. Quando il granello di sabbia raggiunge una velocità vicina a quella della luce, la sua energia e la sua massa cominciano ad aumentare enormemente. Il granello potrà risultare invisibile, ma il suo interno è come se avesse una massa uguale a quella di un intero continente. Se il granello raggiungesse la velocità della luce, la sua massa diventerebbe infinita. In questo caso ci troveremmo di fronte ad un buco nero, in grado di annientare tutte le cose viventi e inanimate del pianeta. Alberi, mari, oceani, città, paesi e continenti, l'aria, il suono, l'atmosfera, qualsiasi molecola della Terra, tutto verrebbe assorbito dalla forza gravitazionale del buco nero. Una volta cancellato il nostro pianeta, il buco nero passerebbe alla Luna. La sua forza gravitazionale aumenterebbe, consentendoli di inglobare gli altri pianeti del sistema. Molto presto arriverebbe al Sole. La nostra stella si dividerebbe in migliaia di strisce, come spaghetti, emettendo un'enorme quantità di energia. Questo potrebbe innescare la nascita di un secondo buco nero, ma, per fortuna, questo granello di sabbia viaggia al 99% della velocità della luce, il che cambia tutto. Inoltre, nessun oggetto dotato di massa potrebbe raggiungere la velocità della luce. Il granello di sabbia entra nell'atmosfera terrestre. Dall'esterno sembra un meteorite luminoso che buca il cielo e il granello si riscalda attraverso gli strati dell'atmosfera. Le nuvole nel raggio di 150 km scompaiono e il cielo diventa limpidissimo. Guardandolo al rallentatore è possibile notare le molecole di aria dividersi. Questo processo si chiama ionizzazione. In natura avviene durante i lampi. Anche il nostro Sole ha un'energia ionizzante in grado di disinfettare l'aria. Il frammento lascia dietro di sé un buco nell'ozono. Quell'aria non è più protetta dalle radiazioni spaziali e dalla luce ultravioletta. L'incredibile corsa del granello finisce nel centro dell'oceano antartico. Il continente più vicino all'esplosione è l'Antartide. L'aria intorno si riscalda e si mescola con la temperatura fredda dell'oceano creando degli uragani. Non appena il granello si avvicina alla superficie dell'oceano, l'acqua inizia a bollire. La sua temperatura ed energia sono così enormi che l'acqua evapora e le molecole di vapore vengono bruciate al distante. Migliaia di litri d'acqua sono appena scomparsi dalla faccia della Terra. Il frammento continua la sua discesa senza toccare la superficie del mare, mentre l'acqua evapora davanti a lui, poi cade nell'oceano provocando una potente esplosione. Cettinaia di milioni di litri di acqua schiumano e iniziano a bollire a causa della temperatura. Tutto l'oceano nel raggio di 100 chilometri è illuminato da una luce brillante. Le profondità dell'oceano, dove i raggi di sole non sono mai stati prima, sono quasi trasparenti, come l'acqua sul fondo di una piscina. I relitti di alcune vecchie navi si disgregano in atomi a causa della potente esplosione. Mostri marini sconosciuti e calamari giganti che vivono nell'oscurità sono spaventati dall'intenso bagliore e scappano. Poi il granello di sabbia tocca il fondo del mare e penetra in profondità nella crosta terrestre. Se riuscisse a raggiungere il nucleo della Terra, molto probabilmente farebbe esplodere il pianeta a causa della sua enorme energia accumulata. Fortunatamente questo non accadrà. La resistenza opposta dall'oceano e dalla Terra rallenta il granello riducendo la sua energia. L'impatto provoca un leggero spostamento delle placche tettoniche, ma non solo. Delle enormi onde si formano e si diffondono in tutti gli oceani. L'onda d'urto crea degli enormi tsunami. Immagina di lanciare un piccolo sasso in una pozzanghera. La stessa cosa accade all'oceano. Onde enormi si avvicinano alle città confiere. Fortunatamente gli abitanti sono stati evacuati, ma il danno causato da un granello di sabbia costerà centinaia di trilioni di dollari. Le case vengono distrutte, le strade vengono allagate. Poco dopo inizia la pioggia portata di uragani. L'acqua dell'oceano vaporizzata si condensa in enormi nuvole temporalesche. Il vento le spinge verso i continenti. Dopo lo tsunami inizia una pioggia prolungata che inonda interi paesi. Diversi giorni dopo i disastri naturali continuano. La temperatura dell'oceano antarctico è aumentata di diversi gradi. L'acqua nel luogo della collisione è ancora in ebollizione, provocando la fusione dei ghiacciai antarctici. Milioni di metri cubi di ghiaccio si trasformano in acqua innalzando il livello degli oceani. Le coste di alcuni continenti finiscono sott'acqua per sempre. Le nuvole cariche di pioggia raggiungono il Sahara e altri deserti. Lo spostamento delle placche tettoniche causa terremoti in alcuni continenti risvegliando vulcani. Il cielo si riempie di cenere vulcanica che rimarrà in sospensione nell'atmosfera per mesi. Questa situazione crea condizioni difficili per la vita sulla terra. Tutti gli esseri viventi, animali e vegetali non ricevono abbastanza luce solare. Negli alberi e nelle alghe si interrompe il processo di fotosintesi e di conseguenza la produzione di ossigeno. Respirare diventa sempre più difficile. L'aria che ha riempito l'atmosfera del pianeta si sta lentamente esaurendo. Le persone devono adattarsi alle nuove condizioni. Costruiscono nuove città sia sulla terra che nell'oceano. Creano piantagioni con illuminazione artificiale per la fotosintesi. Fortunatamente tutti i problemi finiscono quando la cenere si deposita a terra. I vulcani eruttano del bagma caldo, utile perché ricco di elementi chimici e minerali. Insieme alla cenere le sostanze costitutive cadono a terra, fertilizzando il suolo. Piante, alberi, frutta e verdura crescono molto più velocemente e producono un quantitativo superiore di ossigeno. Il Sahara è pieno di fiori che sbocciano e assomiglia più a un prato fiorito che a un deserto. Tutti solo concordi, il cranello di sabbia ha solo rinnovato il pianeta invece di distruggerlo.